Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove ci sono rallentamenti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Il traffico invece scorre in maniera regolare sulla FIPILI. Per quanto riguarda le statali, la 330 è chiusa in località al Biano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Mansa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, tratto chiuso per lavori fino al 28 agosto, tra Rufina e l'incrocio con la statale 69 di Valdarno a Pontassieve in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!